La consulta femminile regionale Zonta Club hanno celebrato il Rose Day con il convegno, le associazioni femminili e le istituzioni il 28 marzo a Palazzo Lascaris. Al centro dell'incontro la riflessione sul rapporto tra le associazioni femminili del territorio torinese e le istituzioni. Sono intervenute la presidente della consulta femminile Maria Agnese Vercellotti, Daniela Stramignoni, presidente dello Zonta Club Torino, Maria Alessandra Parigi del comitato associazioni femminili torinesi CAFT e Maria Pia Pianta della consulta femminile comunale. Io rappresento lo Zonta alle Nazioni Unite, quindi ho fatto un'esposta di quelle che faccio tutti i giorni sia a New York che a Ginevra. Poi ho anche detto due parole su questa nuova entità UN Women, che è un'entità che racgruppa quattro comitato delle Nazioni Unite, ha iniziato a gennaio 2011. L'empowerment tra le donne, noi tocchiamo i diritti delle donne sia dal punto di vista politico, sociale, parliamo anche delle donne nelle zone di guerra, cioè tutto quello che ha a che fare con i diritti.